Ghostbusters, Frozen Empire, Ghostbusters minaccia glaciale, parliamo insieme in maniera spoiler, questo è un video totalmente spoiler, dopo la sigla. I can't do this all on my own, no I know, I'm no superman. Percensione spoiler, dando per scontato che voi avete già visto il film e che lo avete visto anche abbastanza di recente, quindi che avete una mente fresca sul film. Io mi sono fatto degli appunti, quindi se guardo di là non sono pazzo, sto tenendo una traccia. Allora, ammettiamo una cosa, che a New York si fossero trasferite altre persone, oltre alla famiglia Spengler-Gruberson, che hanno rilevato appunto l'azienda di famiglia, non aveva senso. Non aveva senso che Lucky fosse lì. Non aveva senso che Podcast fosse lì in quel momento. È tutto molto forzato, è tutto molto fortuito. Come ho detto nella recensione spoiler, hanno voluto aprire sette sottotrame, oltre alla trama principale. Quindi adesso vi faccio un elenco di queste trame, per capire di cosa sto parlando, e poi continuo a dire perché questa cosa non ha... Cioè, è un po' forzata, e avrebbero tranquillamente potuto asciugarla meglio in un altro modo. Le trame sono queste. Ghostbusters Minaccia Glaciale, c'è la trama di Garraca, che è contenuta in questa sfera, in questa antica trappola di ottone, che viene portata dal personaggio di Nadim, che pare essere un discendente dei mastri di fuoco, che possono contrastare appunto un demone di ghiaccio come Garraca. Questa è una trama. Sono stato buono. Già sono due trame, secondo me, però sono stato buono. Questa è la trama principale della storia. A questa trama c'è la trama della famiglia Gruberson-Spengler, Fantastici Quattro Incredibles, che si è trasferita nella caserma dei pompieri e cerca di convivere tra lavoro, famiglia e questo rapporto padre-figlia che non sta nascendo, perché appunto Gruberson è un po' il padre adottivo e non sa se comportarsi da padre o da amico. Questa è la seconda trama. Poi abbiamo la trama molto flebile di Trevor, che ha solo la passione per guidare l'Ecto 1 e che gli viene negata, e trova in casa il fantasma di Slimer e vuole occuparsene. Questa è la trama molto flebile di Trevor. Poi abbiamo la trama di Phoebe, che per carità è stata la protagonista assoluta del primo film, quindi è giusto che abbia un ruolo principale anche nel secondo film, però qui potevano giocarsela in modo che si spalmasse un po' di più anche con la trama degli altri ragazzini. Qua invece Phoebe è centrale ed è da sola, non c'è neanche podcast a farle compagnia. Il personaggio che accompagna la trama di Phoebe è questo fantasma di nome Melody, che non si è visto nei trailer, che erano già zeppi di tutte le altre trame, e che aggiunge una trama in più assolutamente forzata, assolutamente non necessaria, e che poteva invece dare fiato ad altri personaggi, poteva continuare questa amicizia con podcast, quantomeno, che avrebbe avuto un ruolo più centrale. Invece hanno dovuto aggiungere questo personaggio Melody, che di fatto non mi dispiace come storia, però io Casper nel 95 l'ho già visto, non voglio rivederlo, ho capito che è canonico Casper, però scherzi a parte, è il primo fantasma a figura intera che parla come se fosse vivo, che noi vediamo, nemmeno Egon Spengler, fortunatamente per rispetto all'attore Harold Ramis, nemmeno Egon Spengler da fantasma ha spiccicato parole in Ghostbusters Legacy, si è qua, vediamo un fantasma a figura intera che parla tranquillamente, e nessuno dice nulla quando i fantasmi nell'universo cinematografico di Ghostbusters sono fondamentalmente dei mostriciattoli pieni di melma, spiegatemelo quantomeno, ditemi, ah cavolo è una figura intera, figura intera autentica, parlante, è una classe 10, che minchia ne so, una cosa così, avrebbe avuto senso se un fantasma così sviluppato fosse stato l'unico ad avere la forza di contrastare Garraca, avrebbe avuto senso, dato che è il fantasma più completo che abbiamo visto dal 1984 ad oggi, persino la signora nella biblioteca non ha mai parlato, e si è trasformata in un mostro. Fateci vedere che anche Melody è in grado di farlo e può combattere Garraca, sennò così è davvero una trama gratuita per fleggare la casellina anche al sottotesto queer, in modo tra l'altro forzato e che credo non faccia bene nemmeno alla comunità queer, dal momento che perché aggiungere una cosa in modo così gratuito quando poteva essere funzionale alla trama? E questa è la trama di Phoebe Spengler. Scusate, ricapitoliamo. Trama principale, Garraca, trama di Trevor, trama di Phoebe Spengler, poi abbiamo Podcast, che è in vacanza da Ray Stance, un minore che è in vacanza da un anziano adulto e non lo ha detto ai genitori quando ha detto loro di essere al campo scientifico, allo space camp. Eww, molto strano, aveva più senso che fosse andato a trovare Phoebe in vacanza per l'estate? No, è che approfittava di questo per andare a trovare Ray e fare il suo podcast. In questo modo sarebbero stati molto più legati Phoebe e Podcast. Fa niente. Poi c'è Lucky. Lucky non ha una vera e propria trama, ma è legata alla trama del laboratorio, della ricerca e sviluppo di Winston Zedmore. Quindi Winston Lucky e questo nuovo scienziato biondo che ricorda tanto Ligon Spengler dei cartoni animati hanno questa trama, ricerca e sviluppo. Anche qui non ha senso che Lucky sia lì a fare uno stage a New York e non abbia avvisato Trevor, a meno che non ci siano stati dei trascorsi infelici tra i due. Non ha senso, non ce l'hanno mostrato. Piuttosto fammi vedere che nella trama ricerca e sviluppo con Winston Zedmore e lo scienziato biondo, ci sono Winston Zedmore, lo scienziato biondo, Ray Stenz e Peter Venkman che aiutano. Ma mettimi Lucky e Podcast che obiettivamente sono in vacanza alla caserma dei pompieri e si passano un'estate con Trevor e Phoebe che ha anche questi problemi dell'essere la più intelligente della caserma ma essere minorenne ed essere costretta ad essere messa in panchina. Trama di Walter Peck ora sindaco che impedisce a Phoebe Spangler di essere una Ghostbusters poiché minorenne creando appunto anche la trama di Phoebe che poi si interagisce con Melody ma di fatto è una trama a sé stante perché poi la trama di Walter Peck va a confluire in quella di Ray Stenz, Phoebe e Lucky che vanno a appunto indagare nella biblioteca di New York. Abbiamo visto mille cose in un film di due ore, sono felice però davvero... No. Cioè lo riguarderò, ecco forse l'unica grossa differenza tra Legacy e questo. Io questo lo rivedrò probabilmente mille volte e non mi stuferà mai proprio perché ci sono mille trame quindi magari a una visione mi concentrerò su una trama, a una visione su un'altra e così via e così via. Sicuramente lo riguarderò in inglese perché non ce la faccio a vedere Peter Venkman con la voce di Brian Griffin che è Leslie Lapenna che è bravissimo come doppiatore però giustamente noi siamo abituati a sentire una voce sola per Peter Venkman. Io già ho fatto fatica nel videogioco dove aveva il doppiatore di Harrison Ford per intendersi perché il doppiatore originale è venuto a mancare. Lo stesso vale per il doppiatore di Ray Stance che invece nel videogioco fortunatamente c'era e per il doppiatore di Egon... scusate di Egon di Winston Zedmor almeno uno dei due è venuto a mancare perché Winston ha avuto due doppiatori, uno in Ghostbusters 1 e nel videogame e uno nei cartoni animati e in Ghostbusters 2 e che casino. Comunque l'orecchio è più abituato a sentire quelle due voci però... diciamoci può stare, le voci più iconiche sono quelle di Ray e Peter che sono sempre state quelle e si fa molto fatica a sentire altre voci su di loro. Ma parliamo proprio della vecchia guardia, mamma mia. La vecchia guardia parte, come ho detto nel video non spoiler, Winston e Ray che hanno un bel arco narrativo. si vede la loro partecipazione, la loro voglia di partecipare a questo film, hanno un bello sviluppo e credo che sia, oltre a essere bello per noi fan, credo che sia anche corretto nei confronti degli attori perché sono i due attori che hanno portato avanti il franchise più di ogni altro. Winston Zedmor forse perché era quello che più ci ha mangiato da questo franchise rispetto ad altri attori che magari potevano guadagnare per altri loro film, per altri loro successi, per essere più famosi. Ma Winston Zedmor, Ernie Hudson è quello che più ci ha guadagnato ed è quello che più ha portato il suo personaggio di Winston Zedmor anche ai Comic Con, tra i fan, è stato sempre il più disponibile a rilasciare interviste, pareri, è sempre stato quello pronto a rimettersi la divisa. E dall'altro lato abbiamo Dene Croyd, Ray Stence, che è uno dei due scrittori degli originali Ghostbusters insieme ad Harold Ramis, il personaggio di Egon, e che quindi porta avanti la sua opera. Ghostbusters è una sua co-creazione e quindi è felicissimo di parlarne sempre, è felicissimo che il film finalmente stia andando avanti, lui è l'unico che ha combattuto per avere un terzo film fin dagli anni 2000 e non c'è mai riuscito perché aveva contro Bill Murray, che non voleva assolutamente farlo, perché poi Harold Ramis è venuto a mancare. Ed è per questo che a tutti gli effetti il terzo film è da considerarsi il videogioco, perché doveva avere più o meno quella trama. Ma a parte questi due attori che tanto hanno dato al franchise e che giustamente sono stati portati su un piedistallo in questo film, gli altri due, ovvero Peter Winkman, ovvero Bill Murray e Janine Mellitz, ovvero Annie Potts, si vede che sono lì ma non ne hanno la minima voglia. E se può andare bene per Janine, anche proprio per il suo personaggio di Janine, non può andare bene per Bill Murray, proprio perché sappiamo tutti quanto Bill Murray abbia ostacolato questo franchise, fino all'altro ieri. E anche in questo film, anche se ci crede un po' di più rispetto a Legacy, si nota che proprio la sua recitazione la sta buttando via, la sta facendo, come direbbe René Ferretti, a cazzo di cane. E come se non bastasse, ci si mette anche la regia. Il regista, che ha due difetti, ovvero quello di essere sia sceneggiatore che regista, ed è per questo credo che non abbia tagliato nulla del suo materiale, ci mette anche un po' di scene buttate lì a caso. Non mi puoi fare la prima apparizione di Peter Venkman in questo film con lui seduto già pronto nel laboratorio di Winston, cagato lì davanti, pronto a fare un'analisi di Nadim che ricorda la sua prima apparizione nel primo Ghostbusters. Fammi con le stesse scene da contratto, perché sicuramente Bill Murray avrà un contratto che prevede tot primi piani, tot scene d'azione, eccetera, eccetera. Fammi con le stesse identiche scene Peter Venkman, che attivamente è lì nel laboratorio, e fammi Peter Venkman che attivamente si propone di analizzare Nadim con lo scolapasta. Questo darebbe più spessore al personaggio di Peter Venkman, che nonostante sia quello sempre più refrattario al paranormale, è comunque un uomo d'azione, è comunque l'ex frontman dei Ghostbusters. e vedere che è buttato lì a caso, come se l'avessero preso dalla casa di riposo, in questo caso dall'università dove insegna marketing, come hanno detto nello scorso film, e l'abbiano piazzato lì a fare il suo lavoro, non ha senso. Cioè, ci saranno altri psicologi e parapsicologi oltre Peter Venkman. Hanno chiamato lui perché è Peter Venkman, però sarebbe stato bello vedere un ruolo più attivo del personaggio. E lo stesso vale per le scene d'azione. Fammi chiedere, solo Venkman riesce a fare, ad avere un colpo di genio nella cattura, o comunque nell'intrattenere Garraca che altri non hanno, che Gruberson ancora non ha perché ha ancora un novellino rispetto a Venkman nel trattare con gli spettri. Venkman che tratta con gli spettri è una cosa che abbiamo visto dai tempi di Godzer, dai tempi di Vigo, sarebbe stato molto molto figo. E lo stesso vale per Janine. Che senso ha dargli questa fantastica pistola protonica da braccio che ricorda molto uno degli aggeggi che hanno fatto proprio per Janine nei fumetti, e non dargli una scena principale con lei che fa qualcosa che gli altri non possono fare. Che senso ha colare nell'ottone solo lo zaino di Phoebe Spengler e non tutti gli altri? Tra l'altro con Rey che l'aiuta, quindi significa che c'è stato tutto il tempo di sganciare Rey dalla scena principale, farle colare il ciclotrone nell'ottone, far tornare Rey nella scena principale, e far scendere Phoebe invece a chiacchierare con Melody nella griglia di stoccaggio per poi risalire e occuparsi da sola di Garraca. Qui c'è puzza di tagli. Tagli fatti male che probabilmente la Sony voleva per accorciare la pellicola a sole due ore, ma in realtà si vedono, si vede che manca qualcosa, che c'è qualcosa che non torna, se lo si guarda con uno sguardo attento, e non ha assolutamente senso. Aveva senso perché c'era la scena in cui Phoebe era l'unica che aveva nascosto uno zaino protonico sotto il letto, che è l'unico di quelli vecchi, che non è stato sequestrato da Peck. Che c'entra che Peck sequestri gli zaini dei Ghostbusters se poi ricerca e sviluppo gli porta nuovi zaini? Non ha senso. Non ha senso. Fammi vedere che Phoebe pensa già prima a quest'idea dell'ottone, di colare il ciclotrone nell'ottone, che quindi è già pronta ed è già l'unica ad avere lo zaino che spara un raggio verde di ottone, e che gli altri non hanno. Altrimenti che senso ha? Perché Phoebe è l'eroina, deve essere lei al centro. Ok, ma dammi un motivo narrativo. Poi bellissima la scena che richiama la scena di Legacy dove Phoebe da sola non riesce a tenere lo zaino protonico perché è piccolina e questa volta non l'aiuta Egon, ma l'aiuta sua mamma, poi suo padre adottivo, poi suo fratello. E qua si chiude il cerchio della trama della famiglia. È bellissimo da vedere. Però si vede che ci sono dei tagli. Persino la scena dove Walter Peck e Peter Winkman si vedono faccia a faccia dopo 30 e passa anni e Peter gli dà del pagliaccio, nonostante sia il sindaco. È spettacolare, ma è buttata via. Non c'è un primo piano, un campo e contro campo tra i primi piani dei due attori che si insultano. C'è un campo medio blandissimo con Bill Murray che si vede che sembra che nemmeno sappia quello che sta dicendo. Questo è un altro problema della regia, davvero. Mi sembra che ci siano dei primi piani dove non dovrebbero esserci e dei campi medi, delle figure intere, dove invece dovrebbero esserci dei primi piani molto più incisivi. E non lo dico perché è sbagliata la regia, ma perché, quantomeno, si poteva rifare, dato che il regista è nuovo alla regia, uno sceneggiatore principalmente, non ha una firma registrica particolarmente forte, poteva rifarsi un pochino di più alle inquadrature di Ivan Reitman e questo ci avrebbe ricordato molto di più i primi due Ghostbusters. E invece no, questa blanda uscita dalla caserma dei pompieri dove i Ghostbusters vecchi vengono osannati come nei primi film, ma dove non ha senso che ci sia della folla lì, se non per l'esplosione ancora della caserma, non ha senso che si sia fatta lì dalla folla, e vengono osannati dalla folla perché, ok, è andato via il ghiaccio, quindi probabilmente sono stati loro, wow, però è tutto buttato via perché è tutto tagliato, quella parte è tutta tagliata, perché Podcast ha la sua tuta con il nome disegnato e quando esce ha una tuta con la patch del suo nome ufficiale, non si è visto quando è successo perché è stato tutto tagliato il finale, quindi o ci date un finale più allungato, più completo, almeno per noi fan, oppure non... no, così no, così non funziona né per un fan né per un amante di una commedia da un ritmo più incisivo. Dato che questo film non riesce ad avere il ritmo incisivo della commedia dell'84, almeno dateci un finale più allungato. Ecco, questo è quello che ho notato nella mia prima e unica visione di Ghostbusters, lo vorrò sicuramente rivedere, lo vedrò sicuramente perché ho degli amici che vogliono vederlo, che vogliono vederlo con me e sicuramente andrò al cinema di nuovo a vederlo, ma questo è quello che vorrei da Ghostbusters, Frozen Empire, questo è quello che vorrei quantomeno dall'uscita in DVD. So che per film così minori non fanno una director's cut, non parliamo di Star Wars del Signor degli Anelli, quindi so che non la faranno, ma almeno mi piacerebbe una scena estesa nei contenuti del DVD, nei contenuti extra del DVD. Ecco, questo almeno lo vorrei vedere. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo film, ovviamente opinioni articolate da un pensiero, non questo film è una merda, questo franchise è scoppiato dall'84, queste cose banali le leggo da sole su Instagram. Scrivetemi un vostro pensiero critico se ce l'avete, fatemi sapere se il film vi è piaciuto, fatemi sapere se avete portato i vostri figli, anche voi, se avete dato la vostra legacy da Ghostbusters fan alla vostra progenie e se i bambini almeno l'hanno apprezzato e porteranno avanti questo fandom. Scrivetemi qui sotto nei commenti e come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine di questo video e anche del video non spoiler e come un linkino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.